Ciao fragoline e ciao fragoline, nuovo video, seconda parte dei Grattevinci perché chi l'ha visto il video della prima parte dove ho iniziato a fare la tipologia di Grattevinci ovviamente questa è la seconda parte allora come avete visto nella copertina ho preso un Grattevinci da 5 euro per la prima volta e questo è tutto per tutto, ne ho presi due, uno 7,5 e l'altro tutto per tutto per cui sono 6 euro questo qua tutto per tutto in poche parole l'ho visto da Ricette Risate in pochi minuti che anche lei fa video di Grattevinci per cui se non siete ancora iscritti al suo canale e non guardate ancora i suoi video in generale sia Ricette che Grattevinci perché anche lei fa questo genere di video mi raccomando vi lascio qua il nome del suo canale e andatelo a vedere perché quando ho visto che grattava questo Grattevinci ho detto quasi quasi lo prendo anch'io lei ha speso se non sbaglio 10 euro perché ce n'è uno più grande, è lungo cambia il prezzo, c'è quello da 10 però è più lungo e poi c'è anche quello da 5 ovviamente ho preso quello da 5 perché poi lo scoprirete nella terza parte del video prima che arriva Natale scoprirete il perché ho preso solo quello da 5 comunque credo che lo sapete già perché chi mi segue su Instagram e se ancora non l'avete fatto seguitemi su Instagram la terza parte del video sapete anche che Grattevinci ho comprato comunque detto questo adesso proviamo a vedere se vinciamo questi due Grattevinci se abbiamo la fortuna e ne vale la pena spendere 5 euro però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like se vi piace questa tipologia e se ne volete altri e un commentino qua sotto o i Grattevinci che volete che gratto oppure quello che volete scrivitemi tutto quello che volete tanto io rispondo sempre detto questo iniziamo e vediamo giustamente se abbiamo vinto allora io direi di iniziare da quello più piccolo questo qua così quello lo facciamo per ultimo e vediamo se vinciamo allora grattiamo prima le mie carte allora le mie carte sono Reggina Re e Fante bene per cui vediamo se riusciamo a superare allora prima vediamo il premio perché sono curiosa di sapere quanto è se è alto ovviamente è altissimo cioè non tanto alto ma 20 euro me le sogno per cui vediamo il banco quanto diciamo allora Fante vediamo 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 e dai sono 4 e mezzo che sfiga niente allora carta bonus 6 peggio che peggio e niente praticamente il 6 era 1 euro peggio che peggio non abbiamo vinto niente iniziamo bene proviamo a vedere l'altro vado un po' più veloce sennò poi dopo il video dura troppo specialmente se la casella diciamo tipo questa da 5 euro ha tanti numeri da grattare allora proviamo prima i nostri numeri per cui i nostri numeri sono vediamo i nostri numeri e l'ultimo il 27 allora grattiamo bene non si sa mai ok questi sono i nostri numeri vediamo il primo ciao questo è un 29 abbiamo il 27 poi un 46 niente ma sono numeri alti per cui sarà complicato vincere anche solo 5 euro infatti abbiamo qua c'è il 13 noi abbiamo il 12 ma almeno 5 euro dai 34 e abbiamo il 33 proviamo a vedere dall'altra parte qui abbiamo 15 niente perché c'è il 16 qui abbiamo il 22 niente 26 abbiamo il 27 che sfiga e per ultimo il 44 anche qua abbiamo il 41 vediamo nell'altra fila porterà a fortuna 28 c'è il 27 38 non ce l'abbiamo 45 neanche ma dai almeno 10 5 euro cioè e il 17 per finire che ovviamente abbiamo il 16 perché giustamente allora diciamo che non abbiamo trovato neanche un numero di questo qua c'era il 10 c'è da moltiplicare qua il 5 e qua il 50 io ovviamente gratto tutto perché così almeno non si sa mai se poi dopo certe persone si lamentano che io non ho grattato tutto e neanche questo gratto e vinci diciamo che è un po' si è un po' sfigati anche se ho preso quello da 5 pensavo meglio invece neanche 2 euro vabbè è andato anche così pensavo meglio e invece anche per questi altri 5 euro direi che non abbiamo vinto neanche 2 euro per cui tutti e due i biglietti sono perdenti pensavo che almeno un gratto e vinci da 5 euro riuscivo a vincere qualcosina e invece no per quello che io poi preferisco non spendere 5 euro ma spendere almeno 3-2 euro che sono sicura che ho speso almeno poco che di più però vabbè questa direi che sarà l'ultima volta perché io non credo di vincere quando spendi 5 euro e tantomeno anche da 10 eccetera almeno che hai una botta di puntini puntini e niente vabbè pensavo molto molto meglio ma è andata così l'importante è divertirci e guardare il video e se volete consigliarmi altri grattivinci mi raccomando non superiori a 5 euro perché non ho tanta fortuna neanche solo per 2 euro da vincere anche se si tratta di 5 detto questo io vi saluto ci vediamo al prossimo video che sarà la terza parte che la metterò a Natale gli ultimi giorni che arriverà il Natale per cui scoprirete il perché spero che almeno porterà diciamo fortuna almeno l'ultimo questo sole mi sta praticamente entrando negli occhi va bene detto questo io vi saluto mi raccomando lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video ciao